il 17 marzo è domenica è il giorno del purim si lo so l'avevo scolpito per la mia amica nella bottega di mio padre qui a wolfburg è tradizione ebraica regalare cibo in questo giorno ma volevo darle qualcosa di speciale che cos'è un gatto il suo animale preferito volevo darglielo ma poi sono arrivati i nazisti questa è una città di segreti la sua storia è piena di morte e distruzione e ora elga sta frugando nelle sue potride viscere con la morbosa curiosità di un bambino mia moglie spargeva volantini come questi per berlino i nazisti l'anno impiccata per questo schrecklich che ne sorgere anche il nostro corso 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 Agente Blazkowicz, devi cercare l'agente 2 dell'UOS. L'ho già avvertita del tuo arrivo. L'agente 2 sa dove si trova Elga. Bene, tanti morti per uno stupido dossier. Se non lo troviamo, ce ne saranno altri. Io e Annette ci nasconderemo qui. Ho rubato delle radio da quei porci nazisti. Ne useremo per comunicare. Prendi questa, poi scendi dalla barca e aiutami a spingerla sotto la banchina. Leg Dich in, meine Liebe. Si trova oltre la piazza del mercato. A nord-ovest dietro la taverna. Accanto a Schmidt, un vecchio panificio. Usa la solita parola d'ordine. A nord-ovest dietro la piazza del mercato. Anche lezioni. Anche i chiara i pan kunne, un'ecchiaisio. Busca un'ecchiaisio. Un'ecchiaisio. L'euro in me è chiesa. Un'ecchiaisio. Un'ecchiaisio, un'ecchiaisio. 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 Grazie. 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 La zona è infestata da porci nazisti. Fa' attenzione. Se non è proprio necessario, non uccidere nessuno. Che hai detto? Uccidi quanti più nazisti possibile? No, ho detto... Non ti sento, Kessler. È disturbato? Un'errore. Un'errore. Ogni Thunder. Un'errore. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.